Fu uno dei primi studi di musica elettronica e vi sono generatori di suono, filtri, magnetofoni, modulatori, tavolo di controllo e molte altre cose. E vi sono anche degli eccellenti tecnici, qui vedete Marino Zuccheri. C'è tutto il necessario per la musica elettronica, compreso il buon umore, indispensabile quando si deve correre da una parecchiatura all'altra, compiere centinaia di operazioni manuali e tagliare pazientemente il nastro magnetico con le forbici. Impugno la penna per scrivere i miei sogni e la via di volontà, dal giorno in cui mia madre con frasi dolci a me, io rischio. Quante curve e due salite che ho trovato, tante dogane, nel guardi di nulla. Quante curve e due salite che ho trovato, tante dogane, nel guardi di nulla. Bisognierebbe non fare niente guardarci e dolziare, bisogna quello che bisogna per poi di venire, di sognerebbe non fare niente, guarda se dorsiare, bisogna quello che bisogna, e poi del po' di venire. Molte volte non trovo musica, proprio dove c'è musica, molte volte non trovo alcuna arte, proprio dove c'è arte. Molte volte non trovo musica, proprio dove c'è musica, Molte volte non trovo alcuna arte, proprio dove c'è arte. Leonard Danstein è l'esempio vivente di questo dilemma. Dopo che ho smesso di dirigere, ci vuole almeno un mese o due per fare uscire dalla mia testa tutte quelle notti di Mahler, Beethoven o Berke, e ritrovare la mia testa. E diventa ogni volta più difficile per me, in quei periodi, trovare la mia propria musica, le mie notti. Perché? Perché ho dovuto fare i punti con una verità molto amara, ed è che io non posso esistere senza la tonalità. Terraferma. Con questo grido di dolore, sincero e familiare, Leonard Danstein esprime il desiderio di un punto di riferimento, di un modello nell'universo dei suoni. Ma i modelli, come le ideologie, non sono dei fini, ma dei mezzi. Servono a capire l'esperienza per poi andare avanti. Grazie.